Ed ora a conclusione di questa tre giorni di lavoro, di partecipazione, di passione legate all'indipendenza, alla libertà, alla crescita, accogliamo per la relazione conclusiva il presidente di Fratelli d'Italia e del partito dei conservatori e riformisti europei, l'onorevole Giorgia Meloni. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questa giornata conclusiva della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, confesso che io ci arrivo un po' fisicamente provata, come immagino molti tra noi qui. E infatti non posso non partire dai ringraziamenti per questo intervento conclusivo, perché spesso si dice, diceva anche il direttore Feltri, che ringrazio come Filippo Facci, che è stato svegliato da me ieri sera alle 11.40. Che è Fratelli d'Italia, sì, ma la Meloni, no? E poi intorno sembra non esserci niente. Nessuno che sia dotato di senno può davvero credere che questa roba qui l'abbia fatta una persona sola. E quindi io devo ringraziare, dovrei ringraziare tantissime persone, ma insomma qualche ceno voglio farlo. Voglio ringraziare Giovanni con l'organizzazione del partito, voglio ringraziare lo staff, tutti gli staff. Voglio ringraziare Giovanni Battista, il nostro centro studi, i nostri dipartimenti tematici. Voglio ringraziare Luca Ciriani, Francesco Lollobrigi, da tutti i nostri parlamentari. Voglio ringraziare tanto i ragazzi di gioventù nazionale, perché se foste passati nei corridoi laterali ogni notte in questi giorni li avreste trovati a smontare e rimontare bandiere tricolori. E voglio ringraziare Giuseppe, che è con noi ed è fiero di noi. E poi devo ringraziare ovviamente la nostra platea, perché non era normale, non era facile, non si vede spesso che le persone stiano ore e ore a ascoltare, parlare di politica con interesse, con attenzione, come abbiamo visto accadere in questi giorni. E voglio fare un ringraziamento particolare ai nostri autorevolissimi relatori, perché tanta gente di assoluto livello in questi giorni si è avvicendata su questo palco, portando il suo contributo e facendoci un grande onore con la sua presenza. È stato questo un evento straordinario, unico nel suo genere. Qualche numero, anche qui, può essere sensato darlo. Più o meno 5.000 partecipanti accreditati, 70 ore di dibattito, 18 gruppi di lavoro tematici, 3 assemblee contestuali insieme a una assemblea penaria, questa sala che vedete, quasi 200 relatori. Per fare cosa? Per parlare di politica, per parlare di problemi, dei grandi problemi e dei problemi più piccoli, quelli quotidiani, che interessano i cittadini, per cercare soluzioni a quei problemi. Non siamo stati qui, qualcuno è rimasto deluso, a parlare di beghe di partito, a parlare di polemiche interne, a parlare di piccolo cabotaggio. Noi siamo stati qui a parlare del futuro della nostra nazione, perché è quello che ci interessa. lo abbiamo fatto sfidando tutti i temi, anche quelli difficili, anche quelli impopolari, se necessario. Anche i temi che gli altri non hanno il coraggio di affrontare. Noi li abbiamo affrontati. perché vogliamo immaginare le soluzioni migliori per quei problemi. Ora, perché iniziative come questa, diceva Filippo Facci poco fa, sono così poco comuni nel nostro panorama? Perché, vedete, questo è un tempo in cui i politici tendono soprattutto a cavalcare l'onda. Loro aspettano l'onda del consenso facile, la cavalcano, e poi aspettano quella successiva. E poco importa se quella successiva andrà in senso opposto rispetto a quella che hanno precedentemente cavalcato. loro la cavalcheranno lo stesso. Loro si fanno dominare dagli eventi e cercano di trarne il beneficio maggiore. Solo che adesso noi siamo in mezzo a una tempesta e in una tempesta è impossibile cavalcare l'onda. Allora, perché noi organizziamo un evento come questo e gli altri non lo organizzano? Perché gli altri sono surfisti. Noi siamo navigatori. Il surfista si fa dominare dall'evento. Il navigatore vuole dominare l'oceano. E vuole dominare l'oceano perché l'unica cosa che lo muove è la rotta, è la prodo. Tu puoi certo, diciamo così, cavalcare un'onda se sei veloce, se hai intuito, se sei anche un po' incosciente. però non puoi dominare l'oceano se non conosci la posizione, se non conosci la tua posizione in rapporto a quella delle stelle, se non conosci i capricci del mare, se non conosci come soffiano i venti. per essere un navigatore devi studiare. Studiare! E noi siamo questo. Allora abbiamo riempito la nostra bella cambusa di progetti, abbiamo selezionato il nostro equipaggio solido, abbiamo confiato le vele con le nostre idee e siamo pronti a salpare perché questo è un altro viaggio, è un nuovo viaggio, è il viaggio che porterà le idee dei conservatori al governo di questa nazione. E certo non è un'impresa facile, bisogna avere molto coraggio, forse anche essere un po' visionari per sfidare le forze che muoveranno contro di noi. Però la storia l'hanno fatta quelli così, eh? La storia alla fine ti insegna soprattutto questo, ti insegna che la perseveranza serve come, che le convinzioni servono e come, che il coraggio serve come. Voglio dire, Cristoforo Colombo non ha guardato per settimane lo stesso orizzonte sfidando la solitudine, sfidando il mare e sfidando lo scetticismo di quelli che dicevano che non si poteva andare oltre quel limite. la storia non è una roba per vigliacchi, eh? Ed è esattamente questa la ragione per la quale nelle nostre società oggi si aggirano un sacco di vigliacchi che abbattono le statue di quelli come Cristoforo Colombo. Perché non vogliono dover vedere scolpito nel marmo quello che loro non saranno mai. è la storia. Ora, chi mi conosce sa che io non sono una persona facile alle lusinghe, chi mi conosce sa che è più facile che io ti telefoni per farti una contestazione piuttosto che per farti un complimento. A mia discolpa c'è il fatto che la persona con la quale sono più rigida dal mondo si chiama Giorgia Meloni quindi non me ne vogliate. Per me è molto peggio. Però oggi lo voglio dire, lo voglio dire qui davanti a tutti, io sono fiera. Sono fiera di noi, sono fiera di voi, sono fiera di quello che noi abbiamo costruito in questi anni, della credibilità che ci siamo saputi guadagnare mattone dopo mattone. lavorando sodo, preferendo sempre la strada ripida alla discesa del consenso facile. Sono orgogliosa che anche in questi giorni come ad Atreio e in tutti gli altri eventi che organizziamo noi abbiamo dimostrato la distanza siderale che esiste tra quello che siamo e quello che di noi viene scritto e detto ogni giorno nel tentativo disperato di esorcizzare la nostra affermazione. E perché voglio dire l'abbiamo visto anche in questi giorni, l'abbiamo visto anche in questi giorni, voglio dire il primo partito italiano prende e organizza una discussione di tre giorni di altissimo livello con migliaia di delegati, con decine di esponenti di spicco della classe dirigente del mondo produttivo del mondo della cultura del mondo accademico per parlare di tutti i temi anche quelli difficili anche quelli scomodi io faccio una relazione oggi sarò più magnanima di un'ora e un quarto parlando di temi di possibili soluzioni provo a dare qualche spunto anche nuovo perché questo è stato e che cosa dicono? Che non abbiamo programmi. Ma come? Ieri vi lamentavate ma perché non parli del centrodestra? Perché parlavo di programmi ma non hai dei programmi? No, scusate. Allora, noi in questi giorni abbiamo parlato di cenni giuro che non rifaccio la relazione che vi ho fatto venerdì perché l'ho già fatta. abbiamo parlato di energia di come si fa a impedire che l'Italia rischi un lockdown energetico la nostra proposta? Il mix energetico abbiamo offerto degli spunti abbiamo parlato d'Europa perché la nostra debolezza oggi è figlia di un'Europa che ha sbagliato tutte le priorità e abbiamo dato una risposta per noi la risposta è un'Europa confederale che si occupi delle grandi materie e lascia la competenza degli stati nazionali quelle che sono competenza degli stati nazionali vogliamo un gigante politico e un ano burocratico non un gigante burocratico e un ano politico abbiamo parlato di ambiente di una sostenibilità ambientale che non può non andare di pari passo con una sostenibilità sociale l'ambiente non è nemico dell'uomo l'ambiente va difeso con l'uomo dentro vogliamo rivedere gli obiettivi del PNRR perché in questo momento non ci possiamo permettere la transizione ecologica così come imposta da Greta Thunberg abbiamo detto abbiamo cercato di fornire un'idea di visione industriale partendo da quelle che sono le specificità italiane secondo noi non adeguatamente considerate non adeguatamente sfruttate il mare per esempio risorsa naturale che abbiamo e che noi non usiamo ma questo non vuol dire ovviamente perché ho letto anche questo che non ci interessa la montagna perché ragazzi pura collina se è per questo e anzi sulla montagna mi corre l'obbligo di ricordare che noi siamo l'unico partito d'Italia che tutti gli anni organizza gli stati generali della montagna così come organizziamo gli stati generali della sanità dell'agricoltura del turismo e molti altri il marchio abbiamo proposto una nuova grande strategia industriale orientata al rafforzamento del made in Italy perché il marchio è la cosa più preziosa che abbiamo perché tutti vogliono comprare prodotti italiani e noi non possiamo non capire che questa è una grande opportunità e non l'abbiamo capito finora visto che i marchi li stiamo svendendo abbiamo parlato di rilocalizzazione abbiamo parlato di golden power abbiamo parlato di tutte le cose che si possono fare anche in Europa per difendere il marchio italiano abbiamo parlato di infrastrutture strategiche comunicazioni tecnologie di sviluppo del mezzogiorno partendo proprio dal tema delle infrastrutture l'infrastruttura portuale la cura del ferro per le nostre infrastrutture di trasporto interne abbiamo parlato di formazione ed eccellenza per i nostri giovani abbiamo proposto la creazione di un liceo del made in italy per la formazione ed eccellenza di tutto il campo del made in perché vedete quando noi diciamo che ci schieriamo contro il reddito di cittadinanza non vogliamo dire che quei giovani che oggi stanno a casa a guardare la televisione con la paghetta di Stato li lasciamo a casa a guardare la televisione senza la paghetta di Stato noi vogliamo dire che a quei giovani daremo un lavoro la dignità di un lavoro la formazione necessaria per un lavoro vogliamo dire che intendiamo detassarli fino a 26 anni quando lavoro queste sono le cose delle quali abbiamo parlato abbiamo parlato di anziani di detassare la parte delle pensioni che gli anziani inevitabilmente stanno destinando al sostentamento dei giovani di difesa dell'economia reale contro lo strapotere della grande finanza speculativa le nostre imprese vanno messe al riparo dalla concorrenza sleale dalla concorrenza sleale che arriva dall'alto e dalla concorrenza sleale che arriva dal basso dall'alto consentendo alle grandi concentrazioni economiche di beneficiare di regimi speciali che eludono il fisco e dal basso mettendoli al riparo dalla concorrenza sleale di quelle aziende apri e chiudi fatte soprattutto di extracomunitari che non versano un euro allo Stato e trasferiscono i loro guadagni all'estero con dei mani transfer che la sinistra ti vuole pure detassare abbiamo parlato di come sciogliere i legacci che tengono imbrigliate le forze produttive di questa nazione dal grande fratello fiscale al tetto al contante altro provvedimento assolutamente taffazziano abbiamo parlato di casa per ribadire il nostro no a una riforma del catasto che ha come obiettivo l'aumento della tassazione sugli immobili il governo mente Draghi ci viene a dire che la revisione delle stime catastali non comporterà un aumento della tassazione ma i documenti ufficiali del governo dicono esattamente il contrario la casa per noi è un bene sacro e noi la difendiamo dai pignoramenti dello Stato dall'occupazione degli abusivi e dalle patrimoniali della sinistra mi serve dell'acqua grazie grazie Patrizia dell'acqua ti vedo stanca applauso alla mia padrona la mia padrona scusatemi ok Patrizia sei stata sostituita dal direttore grazie direttore abbiamo parlato della centralità della famiglia dei valori non negoziabili della nostra proposta di legge che arriverà tra poco in aula per rendere l'utero in affitto e sì l'utero in affitto reato in Italia anche se commesso all'est e guardate voglio voglio ringraziare sinceramente voglio ringraziare sinceramente quegli esponenti della sinistra che si sono apertamente schierati con noi su questa battaglia dimostrando che non è una battaglia di destra è una battaglia di civiltà abbiamo parlato di immigrazione perché è intollerabile che grazie all'incapacità del nostro ministro degli interni Luciana Lamorgese detta Caronte continuino a sbarcare sulle nostre coste migliaia di immigrati clandestini quando noi ci dobbiamo occupare di profughi veri la proposta più seria l'abbiamo sempre fatta noi la proposta più seria si chiama blocco navale l'abbiamo sempre fatta noi abbiamo parlato delle restrizioni della legislazione d'emergenza basta vogliamo tornare alla normalità il Green Pass va abolito perché non moriremo cinesi non vogliamo vivere in Cina e soprattutto abbiamo parlato di lavoro abbiamo parlato tantissimo di lavoro di lavoro dipendente con la nostra proposta più assumi meno paghi più è alta l'incidenza della manodopera in rapporto al fatturato e meno tasse paghi di lavoratori autonomi cioè di quelli milioni di lavoratori che sono stati considerati lavoratori di serie B e dei loro diritti che devono essere uguali a quelli di tutti gli altri perché da tempo ci battiamo per un sistema unico di ammortizzatori sociali e abbiamo parlato stamattina anche con il bellissimo concerto a cui avete assistito grazie alla mia amica il maestro Beatrice Venezia ragazza straordinaria eccola qua stavi bella mia abbiamo parlato stamattina di tutti quei lavoratori dimenticati le cui storie non saranno presenti sul palco del concertone del primo maggio organizzato da sindacati che diciamoci la verità non sempre difendono proprio il lavoro difendono soprattutto i loro iscritti però vedete voglio dire anche un'altra cosa nel giorno in cui noi dobbiamo ricordare il dramma dei senza lavoro di chi vorrebbe un lavoro e non solo una paga non possiamo dimenticare neanche che nei primi mesi di quest'anno nei primi tre mesi di quest'anno sono state quasi sono stati quasi 200 i lavoratori che hanno perso la vita sul posto di lavoro ora vedete 200 persone 200 persone sono una catastrofe noi non ce ne accorgiamo perché no sono sempre storie singole ma per capirci nel terremoto di Amatrice sono morte 290 persone 200 persone in tre mesi non sono qualcosa che si può far finta di non vedere ora vedete alcune di queste persone questi lavoratori perdono la vita per un caso fortuito però altri altri invece perdono la vita perché qualcuno è stato troppo cinico Luana Luana d'Orazio Luana d'Orazio voleva fare l'attrice Luana d'Orazio voleva fare l'attrice solo che doveva fare prima la madre e quindi lavorava perché doveva mantenere suo figlio Luana è morta suo figlio è orfano e la ragione per la quale Luana è morta è che il dispositivo di sicurezza del suo orditoio era stato volutamente rimosso per aumentare la produzione dell'8% per qualche centinaia di euro di guadagno in più ecco la cifra che ha comprato i sogni la vita le speranze di questa persona e allora guardate sapete perché lo dico perché noi siamo una forza convintamente produttivista noi siamo al fianco degli imprenditori di questa nazione ma proprio perché siamo al fianco degli imprenditori di questa nazione sappia questa gente qui che saremo implacabili allora noi abbiamo passato tre giorni a parlare di questa roba qui e di molte altre cose che potrei dire ma avevo promesso che non vi avrei tediato oltremodo su questa materia parliamo di tutto questo cerchiamo le nostre proposte facciamo ci interroghiamo ci confrontiamo eccetera poi arriva il giornalista di turno e uno dei nostri delegati fa questa domanda senta ma questa maglietta scura che porta buoni perché è vero questa maglietta scura che porta è un omaggio alle camicie nere grazie 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 e chi gli rispondi dico ma cioè ma vi rendete conto di quanto siete lunari vi rendete conto che vi rendete ridicoli lo dico anche per voi per la vostra professionalità pietà rifiutatevi cioè dite a a quello che vi ci manda io mi vergogno io ho studiato io ho studiato una vita per fare questo lavoro io mi vergogno ma vacci tu a farla sta domanda che è quello che risponderei io ma perché anche ma pensate di fare un servizio alla nazione cioè qualcuno pensa veramente che saranno questi temi a tirare l'economia italiana fuori dal disastro nel quale si trova pensate che sarà con questi argomenti che fermeremo la guerra in Ucraina che impediremo un lockdown energetico una crisi alimentare che i nostri frigli cresceranno meglio perché questo interessa la gente ed è quello di cui stiamo parlando noi mentre voi fate le riunioni di redazione per cercare una scusa per non raccontare quello che qui avete visto allora fatevene fatevene una ragione il vostro racconto non passa voi cercavate di chiuderci in un recinto e non vi siete accorti che mentre vi raccontavate questa favoletta tranquillizzante noi costruivamo un grande partito che di recinti non ne ha voi cercavate di dipingerci come retrogradi che scimmiottano altri tempi altre storie e non vi accorgevate che intanto noi costruivamo una storia tutta nostra completamente nuova disperatamente ancorata al nostro tempo adesso ve ne siete accorti e non vi va giù e non vi va giù non vi va giù perché voi sognate voi sognate una destra sfigata una destra nostalgica una destra cupa una destra perdente e invece noi siamo una destra vincente siamo una destra seria siamo una destra moderna credibile rispettata che non si è fatta mettere all'angolo e adesso siete voi nell'angolo con i vostri argomenti cretini e non lo sopportate perché per di più questa destra ebbè al vertice ha una donna quando a sinistra dove si sono riempiti la bocca una vita di uguaglianza le donne si devono accontentare dei ruoli che gli uomini scelgono per loro e non vi va giù non vi va giù e non vi va giù perché non riuscite a capire come tutto questo sia potuto accadere a un partito che non aveva soldi non aveva poteri forti alle spalle non controllava le tv e i giornali non lo riuscite a capire ve lo spiego io come era possibile che questo accadesse lavoro serietà studio gente onesta gente libera gente che non ha paura continuate a raccontarvi le vostre favolette che noi intanto facciamo la storia il punto è che quello che non si vuole capire quello che non si è mai capito secondo me adesso cercando di tornare nei panni del leader credibile il punto è che quello che secondo me non si è mai capito è che noi non volevamo essere la riproposizione di partiti della destra del passato e figuriamoci se volevamo essere una loro introflessione noi abbiamo attraversato quella storia a scanso di equivoci l'abbiamo attraversata con orgoglio ma proprio perché l'abbiamo attraversata proprio perché abbiamo sulle nostre spalle i sacrifici di tanti beh saremmo dei matti se non volessimo andare avanti se non volessimo portare quelle idee ancora più avanti ancora più in alto in questo tempo con la nostra storia noi viviamo in un tempo nuovo e Fratelli d'Italia è una proposta nuova non siamo qualcosa che avete già visto noi siamo il partito dei patrioti e dei conservatori italiani siamo il partito di quei milioni di italiani che con orgoglio sono alternativi alla sinistra che vogliono essere alternativi alla sinistra qualsiasi sinistra che sia quella ideologica del PD o che sia quella demagogica del Movimento 5 Stelle noi non siamo in nessuna delle vostre vecchie etichette anche questo è ora che lo si capisca perché vedete anche qua anche in questi giorni sulle materie di politica estera diciamo sono filo anti noi non siamo filo e non siamo anti noi siamo italiani noi siamo un'Italia che vuole stare a testa alta in Europa e a testa alta in Occidente rifiutiamo il provincialismo di certa Italia per la quale sei qualcuno se te lo dicono i francesi i tedeschi o gli americani noi siamo qualcuno perché siamo italiani ecco perché siamo qualcuno non abbiamo padroni non prendiamo ordini uscite dai vostri schemi comodi signori perché siamo qualcosa che non avete conosciuto liberi orgogliosi onesti gente che non potete comprare perché non ha un prezzo gente che non potete ricattare perché non ha scheletri nell'armadio gente che non potete minacciare perché non ha paura uscite dagli schemi provate a pensare a qualcosa di completamente nuovo noi non avremo mai problemi a rispondere colpo per colpo alle vostre critiche continue cioè brava la Meloni però non ha una classe dirigente guardatevi intorno non devo dire altro guardatevi intorno e comunque se non vi bastasse la classe dirigente di Fratelli d'Italia beh mi pare che su questo palco avete visto quanto Fratelli d'Italia sappiamo anche coinvolgere personalità di assoluto rilievo proprio perché le identità forti non hanno mai paura di confrontarsi faremo agli italiani la proposta migliore possibile sì coinvolgeremo tutte le persone che con noi condividono una visione e tutte le persone che con noi condividono la rabbia per il declino inesorabile a cui sembra destinata questa nazione allora ho detto sì però fratelli d'Italia è un partito statalista centralista e allora siamo uniti a Milano nella capitale produttiva di questa nazione a dire che noi siamo un partito nazionale che parla al nord al centro al sud alle isole che crede grande Sasso questo era per te che crede nelle imprese che parla l'impresa ai lavoratori che ama l'Italia profonda dei suoi mille campanili che però non ha paura di sfidare le grandi città metropolitane che crede in uno stato forte ma anche nella sussidiarietà che vuole valorizzare i territori con la loro specificità allora hanno detto cambierà la legge elettorale e la Meloni rimarrà isolata attenzione io sto usando volutamente il termine Meloni perché è quello che usano loro perché loro da una parte ti dicono che non c'hai una classe dirigente dall'altra parlano sempre solo di te per tentare di raccontare che non hai una classe dirigente quindi quello che noi diremmo fratelli d'Italia loro dicono Meloni anche perché Meloni è oggettivamente meno bello dei fratelli d'Italia quindi è anche una scelta comunicativa diciamo strategia comunicativa partito dai Meloni non è proprio secondo me tutti questi voti non li prenderebbe allora dice cambierà la legge elettorale e la Meloni rimarrà isolata e anche qui vedete e se sono attaccati alla Francia tutti i sistemi che sono totalmente diversi dai nostri perché questa è una nazione dove tutti ripetono quello che hanno sentito dire qualcun altro e studia pochissima gente io voglio deludere anche questi soloni perché voi lo sapete che in questa nazione decidono ancora gli italiani sì cioè lo sapete che in questa nazione non si decide chi rimane isolato chi governa chi vince chi perde con i fondi di quotidiano con i sondaggi o con i commenti nei talk televisivi e allora sapete che vi dico noi lavoriamo per arrivare a essere il primo partito delle prossime elezioni politiche e poi provate a isolare decine di milioni di italiani e vediamo se vi riesce che poi è oggettivamente incredibile come si parli in modo assolutamente spudorato di leggi elettorali che sono fatte non per garantire meglio chi vota ma per garantire meglio chi le scrive proprio il simbolo di una politica che invece di considerarsi al servizio del cittadino ritiene che il cittadino sia al suo servizio non è il nostro modello non è il nostro modello allora hanno detto sì però la Meloni è isolata a livello internazionale sì isolata a livello internazionale e invece noi abbiamo dimostrato che con un po' di intelligenza un po' di coraggio un po' di credibilità si può essere centrali in Europa anche essendo critici con l'establishment europeo perché guardate anche qui quello che si fa finta di non capire è che tra diciamo l'attuale Europa e l'attuale postura italiana nei confronti dell'Europa e lo scioglimento dell'Europa c'è tutta una gamma intermedia di possibilità ti può stare a testa alta in Europa a difendere i propri interessi come fanno i francesi e i tedeschi allora noi che siamo critici verso l'attuale establishment europeo attualmente come fratelli d'Italia esprimiamo il presidente del partito dei conservatori europei il copresidente del gruppo dei conservatori europei Raffaele Fitto che avete visto prima di me e adesso anche il presidente del gruppo dei conservatori nel comitato delle regioni che è Marco Marsilio isolati eh isolatamente e voi stamattina avete visto qui l'intervento di due primi ministri cioè capi di governo che sono con noi nel partito conservatore che condividono le nostre idee d'Europa e che già governano le loro nazioni come speriamo di poter fare noi tra non molto tempo allora finito questo repertorio finito questo repertorio come una specie di eterno gioco dell'oca torneranno alla casella iniziale e diranno eh però è facile stare a opposizione mica ve l'assumete la responsabilità del governo noi siamo fieri della nostra scelta di essere rimasti all'opposizione perché una cosa che voglio sia sempre chiara è che non andremo al governo a tutti i costi noi al governo ci andiamo solo ed esclusivamente se gli italiani ci mandano al governo a fare quello che gli italiani ci chiedono di fare non ci svendiamo per interesse personale siamo rimasti all'opposizione sì perché sapevamo che tu non puoi fare una rivoluzione se ti allei con l'establishment e non puoi diciamo restituire all'Italia la sua grandezza se metti a fare il ministro sbirulino e quindi le condizioni non c'erano e non ci siamo andati ma come vedete noi stiamo utilizzando questi nostri mesi all'opposizione anche per lavorare con estrema serietà a una nostra proposta di governo per essere pronti quando gli italiani dovessero chiamarci ad assumere questa responsabilità che non abbiamo alcuna paura di assumerci e allora a questo punto l'unica domanda che rimane è ma come fate ad andare al governo che il centrodestra si è sciolto come neve al sole a parte che come neve al sole diciamo i pupazzi si sciolgono di neve al sole e noi pupazzi non siamo ma insomma questo è però anche qui io non ho problemi a rispondere però annuncio alla stampa trepidante che loro questo stanno aspettando e qui questo è giusto per carità ci sta sono tre giorni che aspettano queste risposte però annuncio ai colleghi della stampa in questo caso che io non farò polemica con il centrodestra e non farò polemica con il centrodestra per due ragioni la prima è che la polemica serve sempre alla sinistra e a me non piace fare i favori alla sinistra si sa la seconda ragione è che per me la questione è estremamente semplice noi siamo qui qui c'è la sinistra voi dove volete stare perché se voi come io credo e spero volete stare qui è tutto facilissimo servono solamente chiarezza regole orgoglio che cosa intendo per chiarezza intendo che se si sta da questa parte l'alleanza non ha porte girevoli si vince e si perde insieme e non ci si allea con i nostri avversari in nessun caso l'ultima volta che io ho chiesto un impegno solenne in questo senso io mi sono ritrovata con due poltrone vuote accanto a me dentro un teatro ma gli italiani si sono ritrovati tre governi di fila che l'hanno massacrati non è stato un grande affare non è stato un grande affare regole significa che si stabiliscono e le regole valgono per tutti significa per esempio che un governatore uscente di centrodestra capace come Nello Musumeci che intenda ricandidarsi e non si manda a casa per fare dispetto a qualcuno perché magari è troppo vicino o troppo amico di Fratelli d'Italia ma non per Fratelli d'Italia per i cittadini siciliani che hanno creduto in lui e che non meritano di rivedere a Sicilia consegnata al malgoverno della sinistra per i dispetti le regole si stabiliscono e valgono sempre per tutti e non cambiano in base diciamo no al mutare del contesto sono regole noi ci siamo sempre giustamente perché è così che è giusto adeguati quella è la regola rispettiamo le regole si sa noi siamo di destra regole si rispettano orgoglio però beh orgoglio è la chiave di volta di questo ragionamento vedete noi abbiamo la responsabilità di rappresentare decine di milioni di italiani che per decenni sono stati considerati privi degli stessi diritti di chi invece era o magari si dichiarava per qui a tuo vivere di sinistra naturalmente impresentabili sempre inadeguati gente che valeva per forza di meno quando alla fine i veri impresentabili stavano soprattutto all'altra parte ma guardate non è che lo dico perché penso che noi siamo tutti buoni e belli e bravi e gli altri sono tutti brutti e cattivi se fossi così sarei di sinistra se la pensassi così lo dico perché è una specie di selezione naturale per noi è sempre stato tutto difficile a noi ci contestano pure il colore che portiamo addosso dei vestiti e quindi siamo gente che non si può permettere il minimo errore invece all'altra parte passa sempre tutto sotto silenzio e quindi alla fine il rischio che ti lasci andare è più ampio voglio dire a noi ci chiedono appunto ma non sarei vestito troppo scuro a quella gli trovano 24.000 euro arrotolati nella cuccia del cane e fanno tutti finta di nè ci avete presente che cosa sarebbe accaduto se io avessi avuto un cane così esoso ok ora però a me non fa arrabbiare tanto che la sinistra faccia questo quello che io non sopporto è che ci sia chi a destra a seconda questo racconto non sopporto quelli che si fanno blandire da una sinistra che ti scaglia contro i tuoi sarà che noi ci siamo passati da una sinistra che ti scaglia contro i tuoi e poi quando non ha più bisogno di te ti butta nel cestino e noi questa tecnica la conosciamo molto bene io non sopporto il complesso di inferiorità non sopporto chi crede che per essere quello che sei tu debba avere un lascia passare della sinistra che per poter governare tu lo debba fare con la sinistra che per fare cose giuste tu debba fare cose di sinistra e poi bisognerebbe pure intendersi su quali sono queste cose di sinistra perché almeno una volta erano la sinistra a fianco dei lavoratori adesso fare cose di sinistra significa fare le guardie bianche delle grandi concentrazioni economiche degli interessi dei poteri forti e quello che pare non comprendersi è che la sinistra fa questo gioco in pratica per annientarti no sa che quando tu ti consegni a lei la tua gente non ti riconosce più e non ti sceglie più e tu torni a essere diciamo la destra centrodestra diciamo perdente di cui loro hanno bisogno è talmente evidente voglio dire a me ha fatto molto specie sentire molti commenti entusiastici sulla riconferma di Emmanuel Macron a presidente della Francia che arrivavano anche da ambienti di centrodestra io sono d'accordo ma non è questo il punto cioè non sono d'accordo che sia una buona cosa la vittoria di Macron ma il punto non è questo il punto è che forse ci si dovrebbe interrogare sulla ragione per la quale i popolari non governano più in Francia non governano più in Spagna non governano attualmente diciamo da soli neanche in Italia perché? perché la gente ha smesso di votarli e perché la gente ha smesso di votarli? perché non dicevano cose che la gente di destra di centrodestra voleva sentirsi dire questo è il tema l'orgoglio orgoglio significa dare piena rappresentanza a quei milioni di italiani che sono stati costretti per troppo tempo a essere maggioranza silenziosa ma che non aspettano altro che far sentire la propria voce quegli italiani a noi chiedono un sussulto di orgoglio perché vogliono e credono che noi siamo con loro quelli che possono salvare la nazione dal suo declino e l'impegno solenne che si prende fratelli d'Italia è che noi daremo quell'orgoglio a questo popolo lo vogliamo fare con il centrodestra speriamo di farlo con il centrodestra ma sia chiaro che lo faremo comunque noi di fratelli d'Italia allora concludo e vi ringrazio davvero l'avviso per i naviganti di sinistra è questo non accetteremo di essere figli di un Dio minore semplicemente perché un Dio minore non esiste esiste Dio e sì siamo suoi figli orgogliosi e anche per questo non accettiamo di sentirci inferiori a chi un Dio pensa di non averlo fatevene una ragione non ci troverete mai con lo sguardo basso con il capochino a chiedervi il permesso di essere quello che siamo perché noi abbiamo scelto di essere quello che siamo abbiamo scelto di essere diversi da voi alternativi a voi stasci dietro se siete capaci rispondete nel merito se siete capaci scendete sul piano dei contenuti se siete capaci non continuate a scappare dimostrate l'orgoglio che noi dimostriamo perché sarà quell'orgoglio a portarci alla guida di questa nazione insieme alle milioni di persone che volevate vinte e per vinte non si sono date e che hanno aspettato e combattuto perché le loro idee potessero arrivare alla guida di questa nazione sarà lo so mi sono stancata anch'io anche voi sono stanca aspetta sarà esattamente con questo orgoglio che noi vi guarderemo dritti negli occhi sorrideremo vi sfideremo e vi batteremo ci faremo trovare pronti signori auguratevi di esserlo anche voi viva l'Italia viva fratelli d'Italia che vive in Parac che suda il salario che ama l'amore i sogni di gloria chi ruba pensione che scassa memoria c'è un altro dei miei padroni Tommaso Longobardi che chiede di fare un video selfie per cui sventolate e bandiere viene bene chi gioca a sarvello chi porta gli occhiani chi va sotto un treno chi ama la zia chi va a portapia chi trova scontato chi come ha trovato mi ha trovato ma il cielo è sempre più blu ma il cielo è sempre più blu Grazie a tutti. Grazie a tutti.